A Caserta abbiamo fatto Miss Italia Baby e Miss Italia. Se a lei le piace l'evento, l'anno prossimo possiamo anche portarlo dal regionale qua. Facciamo un evento esagerato. Non sono trovato a dire no, la posso dire sì, però sono questioni di carattere musicale, di carattere, sono un carattere otro. Una cosa c'è, se siamo importanti, di stare con i bambini, ci dico molto, con i bambini, io sono molto contento. Grazie. Ok, mi organizzeria e ti vieno a trovare. Un applauso al sindaco. Grazie a voi. Bambini, tutto bene? Iniziamo ancora? Allora, cosa abbiamo adesso? Con i nuovi 53, Danilo Salvatore. Signori, direttamente da Canale 5, lui, Raul Boa. Ehi, mamma, che è il mister sovisto. Tu, con me, dove sei stato? Acropoli? Ah, perché noi facciamo tanti eventi, eh, in tutta l'Italia. Però, qua lo curiamo noi, Teresa. L'ultima tappa dove ce l'abbiamo? Il 21, stiamo all'altra parte, ve lo vedevo? O che ne ho due, grazie? Sì, l'ultima tappa, mi sembra bene lento, giusto? Ok. Senti, mister, tu parli a me? No, amico.